Al centro di questa ripresa c'è come sempre l'interrogativo se la ripresa riuscirà ad essere una ripresa con lavoro. Una delle cose che ha fatto più piacere in questi ultimi giorni è stato leggere sul Financial Times un articolo alcuni giorni fa che diceva sì, in effetti la ripresa italiana non è jobless, non è senza lavoro, ha prodotto anche molto lavoro. Guardate che questa sarà la sfida per tutte le società industriali avanzate nei prossimi anni. In che modo la ripresa, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo che abbiamo davanti non distrugge ma crea posti di lavoro. È difficile? È possibile. E di nuovo, quale luogo più di una raffineria a Marghera ci può raccontare il fatto che il muro tra il vecchio e il nuovo lavoro non è un muro invalicabile, perché si può nello stesso sito con la stessa funzione, approfittando dell'innovazione tecnologica, transitare da un lavoro di un'altra fase dell'industria a un lavoro della prossima fase dell'industria. È questo che dobbiamo fare insieme.